Sì, Lucia. Lucia di Lammermoor, scritta proprio per il San Carlo da Gaetano Donizetti nel 1835, sul libretto di Salvatore Cammarano. Torna nel suo teatro dopo oltre 60 edizioni, stavolta con un allestimento affidato a Gianni Amelio, regista cinematografico la cui sensibilità ha l'ambizione di raccontare una storia fatta non di personaggi ma di persone. Si torna dunque la tradizione vista come valore in un periodo in cui si tende invece ad accentuare aspetti singoli come l'intervento registico oppure di un solista che spesso però come risultato appaiono inutili forzature. Non mancheranno i momenti in cui Amelio ha lasciato la sua impronta particolare, a cominciare dal passaggio nel primo atto, fra le tinte fosche all'arpa che preannuncia l'arrivo di Edgardo, ma scopriremo quali sono soltanto a sipario aperto ed in un contesto sempre pensato per una forma stretta di comunicazione fra tutte le parti di cui si compone l'opera. Il vero cinema di questa opera sta proprio nella sensazione di verità legata al testo originario della Lucia di Lammermoor, per come è stato questo in scena Gianni Amelio. Ho trovato a Napoli un calore e anche una volontà di fare che altrove non c'è. Il San Carlo è un po' una conferma di tutto questo perché nonostante i problemi che ci sono sempre in un'organizzazione teatrale di questo livello, io ho lavorato in tanti teatri italiani, qui c'è un modo di accostarsi al lavoro, è un lavoro nostro che comunque è un lavoro difficile ma privilegiato, speciale, fatto con il cuore oltre che con la tecnica. Quindi sono felice di stare qua e devo dire che tutto mi risulta più facile se lo faccio tanto. Un cast di prima qualità, dal canto di Jessica Pratt e Gianluca Terranova al podio di Nello Santi, dalle scene di Nicola Rubertelli ai costumi dalle luci di Maurizio Millenotti e Pasquale Mari. Un altro aspetto particolarmente significativo di questa lucia è che sarà tutta interamente targata a San Carlo perché è realizzata dagli artigiani dei laboratori del teatro, quelli che state vedendo a San Giovanni a Teduccio. Un grande Nello Santi e poi Gianni Amelio, grande regista, hanno creato un'atmosfera stupenda che ci ha fatto uscire fuori a noi protagonisti di quest'opera, di questa luce di Lammermoor e hanno messo in primo piano la musica di Donizetti, il canto e quindi hanno fatto uscire proprio il valore del bel canto italiano.